Sono bastati pochi minuti di pioggia di forte intensità per trasformare le strade di Catania in fiumi d'acqua. Scene già viste che si ripetono ogni anno ma che adesso risentono anche delle criticità legate alla presenza della cenere vulcanica purtroppo ancora in strada. Nel capoluogo Etneo è particolarmente difficile la situazione lungo via Etnea all'incrocio con Viale Regina Margherita e Viale 20 Settembre. Problemi alla circolazione anche nell'area di piazza Santa Maria di Gesù in direzione piazza Roma e alla circonvallazione nei pressi della Tondo Gioieni. Allegamenti vengono segnalati anche in piazza Duomo e in piazza Università. La fiera di Catania è allagata come possiamo vedere dal video che ci ha mandato una nostra telespettatrice Mariuccia Stella D'Oro. E nonostante per oggi l'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale su Catania continua a piovere. Il sindaco Enrico Trantino ha disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole del cimitero e dei parchi pubblici.